Cosa è l'ipossia tessutale? L'ipossia tessutale è una condizione medica in cui i tessuti del corpo non ricevono ossigeno sufficiente e le cellule iniziano a morire. L'ipossia può avere una serie di cause mediche di base ed è fonte di preoccupazione per gli operatori sanitari. Se il tessuto del paziente non viene fornito con ossigeno adeguato, può verificarsi una necrosi dei tessuti diffusa e il tessuto potrebbe non essere in grado di recuperare. È anche possibile incorrere in danni negli organi vicini e in altre strutture del corpo. In un caso di ipossia tessutale, il normale apporto di ossigeno non arriva al tessuto. Ciò può verificarsi a causa del basso livello di ossigeno nel sangue, noto come ipossiemia, in cui il sangue raggiunge il tessuto, ma non c'è abbastanza ossigeno disciolto presente. Può anche accadere quando la fornitura di sangue viene interrotta dalla pressione, da un'ostruzione o da un altro problema. I pazienti possono anche avere ipossia tessutale a causa della cattiva circolazione, dove il sangue raggiunge il tessuto ma non ce n'è abbastanza, o il sangue è anemico e non trasporta abbastanza globuli rossi per soddisfare il bisogno di ossigeno del paziente. I sintomi dell'ipossia tessutale possono iniziare con intorpidimento e formicolio. Il tessuto può apparire bianco, quindi bluastro e di solito diventa freddo al tatto. A volte diventa estremamente doloroso e pazienti sviluppano crampi muscolari nell'area circostante. Se le cellule sono senza ossigeno abbastanza a lungo, inizieranno a morire. Questo può causare infiammazione e può portare allo sviluppo di grandi ulcerazioni. Se l'errorazione sanguigna del paziente non viene ripristinata, la cancrena può insediarsi, ed è possibile perdere un'intera estremità. Il trattamento dell'ipossia tessutale inizia con la prevenzione. I pazienti devono mantenere una pressione arteriosa stabile e ricevere valutazioni mediche periodiche se sono a rischio di bassi livelli di ossigeno nel sangue a causa di problemi come la malattia polmonare. È importante rivolgersi a qualsiasi ostruzione circolatoria, come grumi, indumenti stretti e così via il più rapidamente possibile, per consentire al tessuto di riperfunire con il sangue prima che le cellule inizino a morire. Se i pazienti notano segni di cattiva circolazione come diminuzione della sensibilità o cambiamenti di colore della pelle nelle estremità, dovrebbero discuterli con un medico. I pazienti che necessitano di un trattamento per l'ipossia possono ricevere ossigeno supplementare, farmaci per aumentare la pressione sanguigna e un intervento chirurgico per trattare le ostruzioni fisiche nei vasi sanguigni. Tecniche come il massaggio per migliorare la circolazione, così come la stimolazione elettrica, possono essere considerate terapie aggiuntive per alcuni pazienti. Il medico seguirà il successo del trattamento con un esame fisico e esami del sangue per controllare i livelli di ossigeno disciolto.